E di Parma l'ambasciatrice del Primitivo, individuata nel primo master dedicato al vitigno pugliese organizzato a Manduria in collaborazione con l'assessorato all'agricoltura della regione Puglia e dall'associazione italiana Sommelier. A contendersi l'ambito riconoscimento 15 sommelier professionisti provenienti da diverse regioni d'Italia. Una intensa promozione della terra di Puglia raccontata anche attraverso la degustazione delle oltre 70 etichette presenti in abbinamento ai piatti della tradizione. Abbiamo scelto questo vitigno che è il vitigno più rappresentativo della nostra regione e poi proseguiremo con gli altri vitigni più importanti che abbiamo. Ma la cosa più importante è che è uno strumento, il nostro master, fatto da professionisti che comunque diventano ambasciatori di un territorio ma soprattutto è uno strumento che ci porta a far conoscere il vitigno, il nostro territorio è un mezzo di comunicazione importante che AIS utilizza attraverso i mezzi che ha. Quindi la professionalità è questi bravi sommelier che girano l'Italia per testare, per comunicare i vari territori, sia in Italia che all'estero. Innanzitutto l'impegno è stato tanto, ho preparato questo master in pochissimo tempo dividendo il lavoro dallo studio. Naturalmente la voglia di fare, di imparare e di capire questo vitigno che ritengo estremamente importante doveva portare comunque a un risultato e oggi sono felicissima che questo risultato sia avvenuto e quindi posso portare e comunicare il primitivo in Italia e nel mondo. Grazie a tutti.